Così almeno quando Stefano arriva, tac, saremo già in corsa, capito? Questa è la sorpresa che non si aspetta. Ma tu, e quindi sei in il tuo studio classico di registrazione? Sì, questo è il mio, è stato uno dei primi, anzi, più grosso investimento che ho fatto. Quando ancora gli studi erano studi, quando ancora servivano gli studi di registrazione, adesso non sono così necessari, o meglio, sono necessari per quelli ancora un po' romantici tipo me. Però adesso la tecnologia permette di lavorare in situazioni molto più ridotte, con molta più velocità. Però questo è sempre stato un po' il mio orgoglio. E quando ho potuto, ho investito proprio su questa cosa, perché devi sapere che quando ho incontrato Bertoli, che mi diede una grossa mano a inizio carriera, io andai a casa sua e lì vidi praticamente che lui era, insomma, uno che aveva il suo successo, la sua popolarità, il suo lavoro, però mantenendo totalmente le sue radici, la sua famiglia, eccetera. E io, insomma, che fra me e me dicevo, non capiterà, ma se dovesse capitare, vorrei che fosse così anche per me. E quindi da allora io mi sono sempre un po' così impegnato per un mio casa e bottega, intanto per arrivare un po' a una quadra, che per me è importante, insomma. Quindi questo è qua, nel paese in cui vivo, ed è, mi permette per l'appunto di non dovermi spostare quando devo fare i dischi, che per me sono ancora un lavoro che richiede il suo tempo. Ma quindi, scusami, lo studio non ce l'ha in casa, come hanno alcuni artisti che dicono alla moglie, guarda, scusami, vado un attimo a registrare, poi si chiude nel studio di casa. Cioè è separato dall'abitazione, in un posto fisico? Allora, questo è uno studio serio, quindi sì, però ho anche quello, ho anche quello, che con quello ci faccio i provini ed è per l'appunto quello che, insomma, grazie per l'appunto alla tecnologia di cui ti dicevo, è molto più facile in qualche modo provare a esplorare il potenziale di una canzone e poterlo fare da solo, con tutti i loop che hai a disposizione e che in genere trovi in questi software di registrazione che offrono diverse possibilità. Tipo le batterie le trovi lì. Certo, certo. Ma tu durante il lockdown quindi eri potenzialmente autonomo, nel senso potevi collaborare in remoto magari con altri collaboratori, musicisti, però diciamo dallo studio eri in grado comunque di creare qualcosa di tuo a prescindere oppure hai bisogno di avere la gente in studio tuttora, 2021, se vuoi tirar fuori un pezzo, come si deve? No, adesso come adesso c'è tutto per poter essere in qualche modo autonomi anche totalmente, nel senso che non serve ovviamente essere dei virtuosi per nessuno strumento, no? Quindi io che ad esempio non suono così tanto bene il piano, comunque me la cavo, insomma, potendo quantizzare quando voglio e esplorando delle parti da mettere via via nelle canzoni. Però è altrettanto facile poterlo fare in remoto ovviamente perché lo puoi fare, quindi c'è lo scambio di file, la distanza, è tutto molto più semplice, certo. Credo che specialmente chi fa produzioni, diciamo così, ed è ancorato a una realtà del 2021, quindi chi è più giovane di me, credo che faccia quasi ineluttabilmente un lavoro di equip, cioè si trovino in diversi, si scambiano i file, a più mani, con più produttori, credo che siano anche più mani quelle degli autori, credo, per quello che sento dire. E poi a me piace però pensare che dopo una sorta di esplorazione sugli arrangiamenti delle canzoni ci sia una concretizzazione che passa attraverso qua, cioè qui poi mettiamo a punto i suoni con il calore che ci piace, ecco diciamo così, con il musicista che lo strumento lo suona pizzicando le corde piuttosto che bacchettando i tamburi, tutto quello che ne consegue. Anche se è un processo che è molto più, diciamo così, dispendioso e laborioso che non poter usare per l'appunto il fatto di processare i suoni, ecco. Hai ragione, stavo pensando che alcuni artisti quando escono e vai a vedere la lista dei collaboratori ci sono, non so, Justin Bieber, 500 persone o è una cosa, come dire, è una multinazionale, ecco, dove alla fine dei conti ti chiedi ma che cosa avrà fatto Justin in tutto questo? Adesso dico un nome di uno che magari è bravissimo, però insomma è incredibile quanto possa essere diversa la modalità, ecco, di creazione di un pezzo, soprattutto per gli artisti. Sì, ovviamente adesso, l'altra sera ricordo che ero a tavola con degli amici che mi conoscono da tempo ma che alla fine mi hanno chiesto ma di preciso cosa fa un produttore, no? Questa cosa tuttora in realtà non è ancora così chiara per tante persone e allora magari scadremo un po' in una banalità ma magari la chiariamo anche questa cosa allora il produttore è uno che, supponiamo, tu sei Venerio Giacobetti, ok, e tu sai cantare, ok? Succede che qualcuno investe su di te e decide che tu devi fare un album il produttore a quel punto è quello che non solo deve preoccuparsi di trovarti le canzoni canzoni adatte al tuo timbro, alle tue qualità espressive ma è anche quello che poi praticamente deve trovare tutti i musicisti adatti per quello che riguarda le session ed è quello che poi si occupa di tutti i processi tecnici di realizzazione quindi dalle registrazioni ai mix al mastering finale questo è l'esempio più estremo poi magari, non so, se il produttore, facciamo un nome a caso, Bruce Springsteen Bruce Springsteen arriva, lui le canzoni ce le ha, le scrive lui ha le idee molto chiare rispetto a dove deve andare a parare il suono i musicisti in genere li vuole usare lui quindi a quel punto il produttore che è un po' sempre come il regista di un film il regista per i film a quel punto semplicemente adegua tutto il suo know-how rispetto a quello che Springsteen vuole fare cioè quindi in qualche modo è lì a fare un po' da controllore a ottimizzare, ok? allora, in questa forbice c'è quello che un produttore può fare mediamente e sempre di più io sento dire però ripeto, insomma, sono uno insomma, di una generazione un po' passata da questo punto di vista sento dire che le produzioni attuali sono sempre più fatte da più umani di produttori cioè c'è uno scambio diverso di vedute proprio sulla ricerca sonora mi dice una cosa, Luciano, che non ho mai capito ed è il motivo per cui non potrei mai fare il tuo mestiere ed è questo cioè, metti che tu hai hai un'idea per un pezzo, ok? e poi dici, ok, la metto giù coinvolgi tutti quelli che vuoi coinvolgere parole, eccetera, eccetera a un certo punto mi domando come fai a decidere il momento in cui quel pezzo è chiuso dici, ok, basta questa è la canzone si esce così fine, è andata così fine della storia perché io col mio carattere continuerei a dire no, ma aspetta e perché non esploriamo anche quest'opzione? magari perché non aggiungiamo e non finirei mai farei una canzone sola in 50 anni faccio 50 anni prossima quindi mi domando chi è che ha questo mestiere? è il produttore che decide? è l'artista? cioè, come funziona? allora in genere te lo dico perché mi sono sentito dire anche questa l'editor di un libro dice prima o poi all'autore bisogna togliergli il libro dalle mani ok in genere scusa io avevo un po' a Luciano e abbiamo cominciato a chiacchierare mentre ti aspettavamo provavamo di te a tenermi sul divano capito? l'avete fatto bene ma Stefano grande ma guarda sei arrivato puntuale preciso ecco sì siete voi siete in anticipo ok dovravamo in anticipo però capito stai era come avere la torta di mele con panno ha detto non posso resistere iniziamo a chiacchierare ma giustissimo io mi sono messo qua giustino in mezzo a questo sfarzo ecco solo così perché così infatti Stefano se vedi capito in una come dire in una reggia principesca io sembro in un garage invece Luciano è lì l'artista ecco si vede classico ma dove sei però Stefano che non non è che a Roma eh? sono a Roma ah sei a Roma sono a Roma in quell'hotel dove vai spesso anche tu ok 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 di cui vuoi già fare il nome ma mi trattieni va bene ok mi trattengo perché senti beh prima avevo chiesto a Luciano come fa a chiudere una canzone ma prima di tornare a questo volevo solo fare una segnalazione ho visto la serie ok vostra e a parte che è una libidina incredibile perché io sono un grande fan di Luciano è un grande fan tuo Stefano come ben sai insomma e quindi vi seguo da da tanti anni da spettatore ecco da pubblico però la cosa che mi ha colpito tantissimo è che voi siete due cazzeggiatori professionisti cioè io mi aspettavo una cosa molto impacchettata invece siete testa di sera numero uno ai mondiali di cazzeggio e postato cioè in continuazione era capito era proprio palese no in realtà in realtà non hai guardato bene perché è lui che è un cazzeggiatore seriale io praticamente sono sempre serissimo durante tutta la serie sì ci riesce sempre a restare serio come si è visto bene ma guarda sai finora è vero che questo aspetto anche per esempio l'ultimo film è il secondo che abbiamo fatto insieme di Luciano made in Italy che è un film con delle tematiche importanti anche a tratti drammatiche togli pure a tratti dai a tratti drammatiche poi c'è anche dei momenti di leggere però noi ci siamo divertiti molto a fare quel film solo che è chiaro ci vuole il contesto giusto questo si è rivelato il contesto perfetto per raccontare anche quello aspetto in questo caso la realtà è che insomma a parte che cazzeggiare con Stefano è facile perché comunque come vedi già adesso lui ha questa parte già seriosetta in cui ti spiega come mai può uscire il cazzeggio mentre in realtà se lui si lascia andare il cazzeggio viene fuori già da solo senza bisogno di spiegarlo però soprattutto questa cosa ovviamente strideva e ci è venuta fuori ancora di più mentre eravamo sul set di made in Italy che è un film insomma voglio dire in cui la sinossi non è esattamente la cosa più allegra che possa capitare a una persona cioè abbiamo un operaio di mezza età che viene licenziato scopre che la moglie l'ha cornificato col suo migliore amico tenta il suicidio non trova lavoro è costretto ad andare a trovarlo a Francoforte che è esattamente il punto più lontano da un punto di vista morale etico geografico e quant'altro rispetto al posto in cui vive perché perché sì per poter mantenere la casa in cui vivono i suoi in cui conta un giorno o l'altro di tornare quindi in poche parole sì il film è leggermente drammatico e la realtà è che bisognava vederci nel senso che cazzeggiavamo poi ok adesso c'è da dare il cià che c'era proprio un cambio immediato insomma di umore da dover prendere su e qua c'era l'occasione invece di dire senti allora dovremmo raccontare la mia storia sono addirittura 21 episodi perché questi sono così matti da averci chiesto 21 episodi e sono 21 da contratto fortunatamente la durata possiamo decidere noi come farla quindi fare in modo che non sia speriamo troppo palloso un episodio piuttosto che un altro e che cosa possiamo fare insomma per poter fare sì che una storia che per me è seria non venga raccontata con troppa seriosità non è che ci abbiamo dovuto pensare tanto ci siamo semplicemente dovuti metterci lì alcune cose erano copione ma le cose più divertenti almeno quelle che a me fanno ridere ancora sono quelle che ci sono uscite proprio senza copione insomma erano tutte improvvisate faccio un passo indietro perché avevo chiesto a Liga come come fa a decidere quando si chiude una canzone cioè quando è che è il momento che dici basta è finita e in realtà ho la stessa curiosità sulle sulle tue recitazioni cioè quando è che si decide che quello è il momento fatto finito è il Chuck giusto e lo stesso quello del Chuck giusto musicale nel caso di Luciano allora per quello che riguarda le canzoni beh insomma io sono io a deciderlo per quello che riguarda proprio la parte diciamo così più il nocciolo quindi il testo e la melodia per quello che riguarda la parte sonora io ho prodotto i primi miei album e quindi anche lì mi prendevo le decisioni del caso e insomma poi da buon copriano del viso in poi invece ho quasi sempre collaborato con altri produttori quando è il momento il momento è anche dettato dal fatto che io ho bisogno di passare ad altro è proprio una necessità che ho io io non riesco a star fermo più di tanto su un progetto e anche per questo che forse ho fatto fin troppo forse nei trent'anni precedenti ma anche penso io penso di avere ancora un po' di incoscienza da questo punto di vista cioè se ci penso un attimo fare una canzone è sempre un atto di presunzione nel senso che tu alzi la mano e dici adesso io vi dico qualcosa non è una roba da poco e bisogna avere un po' di incoscienza oltre che anche un po' di presunzione nel farlo e l'incoscienza nel senso che comunque ti ci ritrovi a giocarci con le canzoni cioè pensi sai quanto sono quanto possono essere importanti però non ti fai travolgere da una responsabilità infinita non so come dire no quello è un aspetto che le relativizzi le prendi nella giusta prospettiva insomma se è possibile sì perlomeno è un aspetto che voglio riconoscermi quello lì ok posso aggiungere una domanda anch'io mi viene in mente perché conosco Luciano e so appunto della sua curiosità la sua voglia di esplorare no ma una volta che una canzone è finita no e che tu la canti per tot tempo ti è mai venuta voglia di riprenderli di cambiare un pezzetto di rimettere a posto una frase allora no sulle parole non so buon compleanno Elvis chiamarla buon compleanno Rolling Stones non so sul testo no sul testo proprio non si fa non si fa cioè sì voglia voglia mi è anche venuto ma lì insomma lì entriamo nella liturgia proprio e lì no non si fa quello non mi verrebbe mai di farlo anche così perché penso che penso al fatto che insomma le canzoni hanno un effetto su qualcuno quel qualcuno ha diritto a tenerseli così come sono come ricordiamo anche nella puntata numero 4 in cui c'è Radio Frecce c'è il nostro amico Bruno che la radio dice invece le canzoni non ti tradiscono anche chi le fa può tradirti ma le tue canzoni le trovi sempre lì intatte come tu vuoi trovarle io in quella roba lì ci credo che poi è incredibile perché ad esempio nella vostra serie e poi se voglio la tua risposta invece sulla parte di performance come attore è incredibile come alcune spiegazioni che hai dato e che avete dato rispetto a alcuni pezzi io come dire ci ho visto cose totalmente diverse ascoltando le canzoni sono mie per la mia esperienza neanche sapevo dei retroscena che riguardavano alcune canzoni però come dire io ho un vissuto diverso e quindi per me sono un'altra cosa e quindi le godo in un altro modo quindi è incredibile come poi diventano dell'ascoltatore quindi Stefano nel tuo caso chi decide il regista o sei tu che puoi dire no questo qua è il Chuck giusto sai nel mio mestiere a un certo punto ti devi fermare nel senso che una scena a un certo punto la chiudi anche per qualcosa che non dipende dalla tua volontà metti anche la scena non ti dovesse venire in qualche modo ti deve venire ecco non sono più i tempi in cui si girava all'infinito e potevi dire vabbè ci torniamo su domani ecco però la cosa che mi colpisce molto per esempio invece del cinema o di tutto quello che riguarda l'audiovisivo insomma ma anche poi il teatro è la totale estemporaneità nel senso che tu puoi fare non so cinque Chuck dopo che ti sei preparato ci hai studiato hai preparato il personaggio a casa hai riflettuto su tante cose e quindi arrivi con un bagaglio che poi metti anche a disposizione del tuo regista e magari ti chiede di farla all'opposto di quello di come era scritta perché poi spesso le scene non dico proprio l'opposto ma ti sorprendono e poi ti rendi conto che magari a un certo punto il sesto Chuck l'ultimo il quinto il terzo eccetera ti viene con qualcosa di diverso e l'estemporaneità sta proprio nel fatto che sarà quella o dei pezzi di quel Chuck che andranno nel film che sono comunque inimmaginabili al cento per cento perché la sceneggiatura è spesso una sorta di indicazione hai delle battute sulle quali non puoi assolutamente non puoi cambiare ma ce ne sono alcune che invece diventano una sorta di indicazione e quindi alla fine è vero che ogni Chuck è diverso non bisogna ostinarsi a farlo sempre esattamente uguale anche perché alla fine appunto è l'unico momento di vera concretezza del lavoro dall'azione allo stop è l'unico momento irripetibile che resterà però e quindi quel momento irripetibile deve essere diverso ogni volta insomma quindi ti affidi anche alla sensazione del momento poi al tuo regista al montatore eccetera eccetera a me fa impazzire il fatto che uno magari fa un'interpretazione pazzesca da Oscar e magari il regista dice no per l'economia complessiva del film non mi va bene questa interpretazione uso un'altra e tu magari ho fatto la roba in credito io con lui ho sempre fatto così noi abbiamo degli Oscar quindi avete visto insomma i ciac scartati no a parte gli scherzi una cosa molto importante da ricordare parlavo prima di inconscienza quella è una dote che devono avere anche gli attori perché perché nonostante lo scrupolo con cui lavorano loro devono avere una capacità di affidarsi che richiede inconscienza cioè ogni volta che un attore decide di fare un film si affida a una serie di variabili che sono infinite a partire dal rapporto con il regista che comunque diventa decisivo per l'appunto adesso a parte il fatto che insomma sì magari esistono anche registi che scartano le interpretazioni migliori ma in genere insomma forse è meglio che facciano un altro mestiere però le variabili sono tante a finire in ogni ciac e hanno a che fare proprio con la qualità della troupe con la qualità del direttore della fotografia con la qualità della scrittura con la possibilità di veramente di riuscire a scavarsi uno spazio interpretativo che non sempre è scritto che sia quello che tu vuoi o quello in cui tu puoi dare il meglio di te ci vuole una grande disponibilità da affidarsi ed è per quello che secondo me è un mestiere molto difficile ste com'è Luciano come regista rompi coglioni clamoroso precisetti oppure uno con cui si lavora bene di la verità sinceramente vado via due minuti ho deciso che te la dico anche a te stavolta dirò la verità no allora noi abbiamo fatto due film insieme e ho fatto il suo prima di radio freccia scusami scusami peraltro radio freccia qua cercavo prima su wikipedia è radio arrow perché appunto qua dal radio arrow diceva un altro film no è radio freccia ma vi conoscevate già prima di radio freccia no 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 ci siamo conosciuti durante gli incontri che Luciano ha fatto per il film e e e quindi allora tanto questo ormai quando io sono andato la prima volta che mi hanno detto che appunto Luciano voleva incontrare alcuni attori avevo insomma anche un po' di dubbi nel senso dicevo ma un film cioè un cantante famoso che fa un film non lo so non sono tanti casi che si ricordino di cantanti famosi che fanno dei film poi proprio in un momento in cui cioè Luciano ha sempre cavalcato ma era proprio quel momento in cui cioè gli succedeva la qualunque avrebbe potuto dire no ma io adesso sai cosa c'è continuo a fare decidi di fare un film che vuol dire comunque fermarsi scriverlo cioè è un impegno grosso la prima volta che siamo andati ci ha fatto giocare a biliardino basta ma quindi non hai fatto un casting questo è il primo incontro quello dopo il primo incontro quando mi entra nella mia modalità di casting guardo come giocare a biliardino questo era il casting la prima selezione era quella e poi dopo io quella volta ho solo giocato a biliardino mi ricordo avendo avuto un bar al mare ero abbastanza convinto insomma di fra un bel provino alla fine mi arriva la cosa mi dicono guarda Luciano ti ha preso però per un ruolo un po' piccolo spigato un pochino allora leggo il ruolo dico cavolo ma porca miseria mi piace vorrei fare un provino per freccia quindi parlo con la mia gente che parla con Procacci e Luciano accetta di di rivedermi e quella volta lo facciamo più articolato lo facciamo con una lettura del monologo e poi con quella cosa con c'è il mio patrigno quando mi viene davanti alla televisione eccetera e ecco lì intanto la sensazione che per me Luciano scrive in lingua secondo cioè il monologo credo di di Radio Freccia credo nelle rovesciate di Bonimba e nei Rift di Kate Richards e tutto il resto è sempre stato scritto così cioè è scritto in un modo che ha una musica musica chiaramente non solo per me scrive in lingua cioè altrimenti non avrebbe così tanti che lo amano ma forse anche per provenienza per affinità era molto già evidente secondo me quello che Luciano aveva scritto cioè ti dà anche delle indicazioni di regia nella scrittura Luciano poi come regista sai cos'è che mi ha colpito in generale dico questa cosa su tutte il fatto che lui non avesse esperienze da regista e che lui guardasse il mondo sempre il mondo reale anche per quanto un grande amante di cinema veramente trovava importanti e impressionanti ed emozionanti delle cose molto autentiche molto autentiche infatti rivedendo Radio Freccia secondo me queste cose si vedono molto cioè non sono portate alla come dire sempre non sono esplicitate continuamente sono molto interiorizzate però sono tutte lì e si vedono tutte sullo schermo d'altronde se il film ha avuto il successo che ha avuto si è rimasto nel cuore di così tante persone è per questo motivo e questa cosa qua mi ha sempre colpito cioè del suo modo di guardare la realtà e di sapertela poi cioè di non perdere di vista non è che stai facendo un film allora facciamo un'altra cosa no stai facendo un film parti sempre dalla realtà questa è una cosa secondo me fondamentale come è una come dire una sensibilità che tu lì avevi a prescindere o come dire hai studiato un po' hai detto no faccio un film io non saprei dove partire per fare un film cioè come come ti sei approcciato anche al fatto di dire faccio un casting come faccio a scegliere un attore o un altro non lo so qua dobbiamo intanto stare attenti perché facciamo va a finire facciamo un po' di spoiler per l'appunto per la quarta puntata che parlerà di questo in cui io lui e anche Luciano Bruno che è l'attore che faceva il ragazzo che apre e chiude la radio quindi il suo miglior amico Bruno Luciano Federico Bruno Luciano Federico si scusa Luciano Federico nel film che fa Bruno solo che uno che si chiama Luciano Federico non sai bene comunque ci siamo ritrovati anche lì a cazzeggiare e a ricordare un po' di cose che avevano a che fare col film per quello che riguarda il casting comunque questo dai lo svelo perché tanto comunque resta divertente e allora io avevo visto un film che era il primo film di entrambi loro ed era un film di Pupiavati e li avevo trovati tutti e due bravi quando è stato il momento di decidere io avevo però un assillo importante cioè nel senso che Luciano Federico che ha un che di malinconico nel nel suo nel suo modo di esprimersi anche ma nella sua faccia in generale mi sembrava perfetto per il ragazzo che doveva raccontare comunque la storia del suo amico che muore a vent'anni di overdose eccetera eccetera e di una radio che deve chiudere perché si cresce e per quello che riguardava Stefano lo trovavo molto bravo ma c'era un problema che in quel momento Stefano era drammaticamente famoso per una pubblicità di un gelato pubblicità in inglese peraltro allora era un problema perché comunque in quel momento era famoso per Tu gusti smake a one che era diventato un po' un tormentone della gente è vero Stefano ero completamente dimenticato che facevi quella pubblicità lì allora io ero lì e dicevo ma nel momento in cui un ragazzo di vent'anni muore per overdose ma se a qualcuno gli viene in mente tu gusti smake a one non piange non si commuove ma in realtà quindi ho dovuto vincere quel tipo di resistenza devo dirti dopodiché invece facendo il provino e sentendo la voce di Stefano soprattutto leggere i credo perché Stefano come me ha dei difetti nella voce che la rendono molto caratterizzante e quindi praticamente una volta che ho sentito leggere i credito che tanto da qua non ne esco sarà lui però poi alla fine mi è fatto molto piacere vedere che la cosa che mi ha agganciato e guarda caso non ha a che fare con una roba a caso cioè io insomma io mi potevo affidare soprattutto al suono in questo film cioè era la cosa di cui potevo essere più sicuro a come suonavano le battute ok dopo avrei cercato di arrangiarmi per quello che riguardava la parte video ma la mia base ovviamente era quella però insomma per l'appunto oltre a questo è stato veramente un piacere vedere anche nel tempo quanto la performance di Stefano è una performance assolutamente fisica lui si è proprio messo il film sulle spalle in maniera molto fisico e io devo dire che questa cosa la rivaluto sempre di più nel tempo quando mi capita di rivedere alcune scene perché a volte in tv lo replicano piuttosto che ci rivedo sempre di più e questa sorta sua di anche sfrontatezza un po' testosteronica ma in qualche modo un'impronta molto forte per cui Freccia ha preso tutti quei connotati e pensa che era il contrario di come lo pensavo io io Freccia l'avrei voluto gracile molto più vulnerabile dal punto di vista fisico invece lì Freccia è uno che fa spallate col mondo fa cazzotti col mondo prova a spostare un ipopotamo ed è uno che si fa largo perché comunque non trova altro modo di farsi largo se non anche proprio quello di imporsi fisicamente tu ste quando hai finito quel monologo lì che me lo ricordo come se fosse stamattina era incredibile un impatto pazzesco vederlo al cinema l'hai finito hai capito subito che era un monologo pazzesco o tu Liga hai detto ok stop ce l'abbiamo alla grande questo spacca di brutto ma guarda chiaramente quel monologo era il mio monologo del film quindi ci arrivavo era quello del provino era era emblematico per il mio personaggio per il film quindi sono arrivato che lo conoscevo come ormai se fosse qualcosa non dico di mio ma lo sentivo profondamente nella carne quella scena è molto articolata dal punto di vista della regia la macchina si muove molto se ci si fa caso quindi a parte alcune volte che abbiamo fatto il master in cui abbiamo fatto tutto il monologo poi spesso giravamo dei pezzi perché per come era girato c'era proprio bisogno che a un certo movimento di macchina corrispondesse un pezzo del monologo quindi la sensazione precisa alla fine non non era così evidente nel senso perché poi quando si è dentro ad una scena appunto le problematiche diventano non è che dici fai un piano sequenza e lì percepisci teatralmente diciamo tutta l'energia della scena nel momento in cui cominci a girarla cinematograficamente quindi a dividere i pezzi hai delle sensazioni parziali se vuoi chiaro chiaro quindi quella scena è stata soprattutto vederla montata che ha fatto la differenza di sensazione per quanto mi riguarda poi forse combattevamo con la luce con l'alba che arrivava sì sì abbiamo l'ultima proprio l'abbiamo girata che era albeggiava e quindi siamo arrivati proprio a pelo ad averla quella scena quindi vedi proprio l'estemporaneità cioè alla fine hai delle cose contingenti che dici dai dobbiamo finire prima che arrivi la luce se no non possiamo più finirla comunque i movimenti di macchina erano un po' una mia un mio vezzo di quel momento nel senso che io mi ero lanciato ovviamente nel dirigere un film semplicemente avendo avuto insomma un regista come Antonio Grimaldi che mi aveva insegnato veramente l'ABC per portare a casa le scene però in cui volevo cercare insomma di far vedere che sarei andato un pelino oltre l'ABC non mi piaceva l'idea di fermarmi lì anche se insomma tutto sommato sarebbe stato giusto anche farlo e volevo muovere la macchina pensando sempre ad un'intenzione no quindi tu tieni presente che quella scena i movimenti di macchina a cui fa riferimento Stefano dipendono da una cosa che io pensavo così e cioè non c'è credo una cosa come raccontare le cose in cui si crede per poter essere veramente intimi cioè il modo maggiore per essere intimi è proprio raccontare le cose in cui uno crede e il fatto che lo faccia Freccia che come vedi ha una sua scorza che è uno di poche parole che deve soprattutto anche agire fisicamente credo che sia lo renda ancora più intimo quel momento e lo fa da nudo nel senso che praticamente lui è a casa di un amico e va davanti a un microfono se la cava con la strumentazione miracolosamente perché il cinema lo permette diciamo così i mutande e quindi così da nudo lui ci racconta il suo nocciolo cioè la parte più intima di sé le cose in cui crede e quei movimenti di macchina in realtà voleva uno essere come a sbucciare un frutto come in qualche modo a rendere visibile la polpa chi avesse voglia andare a recuperare quella parte lì insomma noterà quel tipo di movimenti insomma me lo riguarderò in quest'ottica se stesse domattina impazzisco ti chiamo e ti dico guarda voglio fare un film e tu dici Monti ma non hai mai fatto un film e mi dico no ho sentito il Liga se lui l'ha fatto anche io voglio fare un film e faccio un film su Luciano e dico guarda Stefano vorrei che tu interpretassi Luciano da dove partiresti? Urca per entrare nel personaggio qual è il punto d'inizio da cui partiresti per calarti nel personaggio Liga Vuesco? sai che allora non è non è così semplice da nel senso che ecco se vuoi anche per Radio Freccia deve partire da un accento molto più grasso intanto quello sì quello sì la cosa che mi ha sia in Radio Freccia che in Made in Italy Luciano per me era una figura importante non solo perché era il regista dei film ma anche perché era una fonte di ispirazione per per quei personaggi che sono personaggi in cui si vede che hanno appunto è vero uno sguardo uno sguardo sulle cose un'attenzione alle cose che li circonda un modo di alle volte appunto aprirsi ma questa è anche una scelta artistica è però un modo di aprirsi che mantiene una forma di pudore che è strano perché un attore deve essere il contrario devi essere anche impudico per riuscire a fare bene certe cose ma il pudore per me è una bellissima qualità cioè è una cosa che racconta un modo in cui ci si rapporta al mondo che si ha intorno che non vuol dire timidezza che non vuol dire che non vuol dire fregarsene anzi cioè forse partirei proprio da quell'attenzione io ho sempre avuto questa sensazione come se sai quella famosa frase non so è quell'esempio per cui se tu dividi un segmento in due e poi prendi la metà e la dividi in due e poi prendi quel pezzetto e lo dividi in due puoi andare avanti all'infinito cioè lo spazio finito in realtà contiene un'infinità di altro spazio perché lo puoi continuare a dividere all'infinito per due ecco il modo di guardare il mondo di Luciano è molto dettagliato quel pezzetto quel segmento è molto dettagliato partirei probabilmente da questa attenzione se dovessi dirne una che la percepiscono nelle sue canzoni la percepiscono nella sua scrittura cinematografica nei suoi libri cioè la percepisco proprio nelle cose che fa nelle cose che fa c'è sempre un pensiero e c'è sempre cuore non sono mai cose fatte perché tanto e questa è una cosa che per me racconta molto la figura artistica di Luciano vedi Luciano che Stefano è un grande attore io pensavo mi rispondesse ma partirei dalla camminata non so sai quei dettagli che uno dice però tu hai detto una cosa importante la camminata è fondamentale le scarpe io so che scarpe userei quello un po' lo abbiamo già fatto fare in Made in Italy in Made in Italy con Rico in qualche modo adesso la camminata neanche tanto forse qualcosa però in generale anche sull'abbigliamento c'era sempre un po' un richiamo perché c'era la cosa del doppio lì insomma il progetto era un po' articolato insomma Rico doveva essere il mio secondo nome è Riccardo quindi Rico avrebbe potuto essere la vita che avrei potuto vivere se non avessi fatto quindi c'era anche questo pensiero qui un po' nascosto fra le righe e invece tu Luciano se dovessi fare una canzone su Stefano che dici metti alzio mattino e dici ma sai cosa faccio una canzone su Stefano a corsi da dove partiresti cioè che cosa cosa ci metteresti dentro così al volo dello yogurt degli yogurt no ma tu non hai idea cioè la cosa lì era talmente stupidina quella scena lì che non c'è che meno male che la prima forse era non so per qualche motivo c'è venuta non ricevamo più a farla eravamo come a scuola quando non quando comincia a ridere non riesce a smettere non c'era modo di fare nessun altro ciak va bene insomma tu l'hai visto quindi sai di cosa stiamo parlando no allora Stefano puoi anche rispondere che non la faresti mai una canzone non so se la farei non so se la farei ovviamente perché comunque non so neanche io i motivi per cui a un certo punto scrivo proprio di un argomento piuttosto che un altro so che ecco questo sì fa un polpaio con quello che diceva lui prima so che scrivo sempre comunque solo delle cose che conosco quindi di quelle che ho vissuto o che ho visto vivere forse per quello che lo sguardo si approfondisce quel tanto perché quello mi piace farlo possibilmente ragion veduta per quello che riguarda Stefano ma sai la cosa più difficile è che io credo che la psicologia di un attore sia piuttosto complessa credo di dire una banalità ma cioè fare l'attore vuol dire fare un mestiere in cui tu decidi che comunque il fatto di entrare e uscire da tantissime diverse identità deve essere per te sia gioco che professione e a un certo punto diventa soprattutto professione bisogna capire fino a che punto continuo a restare gioco io Stefano per come lo conosco lo trovo molto saldo lo trovo molto saldo nel vivere questa professione con il giusto peso che come sempre come ben sappiamo è sempre la cosa che fa la differenza nella vita dare il giusto peso alle cose figurati alla professione mi dà sempre questa sensazione però resta il fatto che è pur sempre un attore quindi sarebbe una canzone molto complessa su un mestiere molto complesso che parla cioè che richiede una psicologia complessa la teniamo mi sa per un po' più avanti allora la canzone sì però sarebbe insomma una buona forse una canzone non basta forse ci vorrebbe un album giustamente l'attore poi vuole almeno magari un album doppio con tutte le foto se possibile grande un'altra cosa che mi ha colpito molto della serie che ho molto apprezzato devo dire vivendo in Inghilterra da nove anni è questa che quando vedo magari un biopic insomma un documentario o qualcosa che riguarda un artista un personaggio in genere sono questi queste autocelebrazioni che dopo un po' dici vabbè se ce l'avrai un difetto ce l'avrai anche tu non so Taylor Swift oppure cioè sono sempre super incensanti bravissimo bravissimo complimenti però insomma ecco è molto suona molto irreale invece ho molto apprezzato della serie che ci sono anche dei momenti molto veri insomma sugli alti bassi problemi che magari tu Liga puoi aver avuto nella carriera e questo l'ho apprezzato e l'ho trovato poco italiano nel senso è un complimento questo però all'estero per dire visto Moby ho intervistato un po' di tempo fa e lui come dire non aveva nessun problema a parlare dei suoi fallimenti o dei suoi momenti bui mentre invece magari vedo tanti personaggi italiani che vogliono solo mettere davanti come dire la bella la bella figura no? e dice bravissimo complimenti è sempre perfetto quindi questa è una cosa che devo dire molto apprezzato non so da dove sia partita però l'ho trovata molto così molto importante ecco anche per inquadrarti da un punto di vista esterno Luciano perché se no poteva essere il racconto fantastico grandi 30 anni vabbè però poi finiamo un po' lì forse sì non riuscivamo a tenere 21 episodi no adesso poi tra l'altro devo dire che nel blocco che la seconda parte quindi le quattro puntate che verranno messe sulle piattaforme adesso non so quando metterete in rete questo ma insomma i dodici episodi restanti ancora da da vedere fra questi c'è una puntata che quindi sono tre episodi che è proprio tutto sulle crisi mie che ho avuto che sono tre crisi molto precise molto specifiche e che insomma io non ho francamente tanti problemi a dover raccontare nel senso che raccontano dei momenti necessari raccontano dei momenti che nel loro nel loro fare male comunque aiutano assolutamente a crescere e compreso anche il momento in cui addirittura avevo deciso di lasciarli c'è stato un momento in cui proprio avevo deciso di smettere e quindi quella puntata si racconta anche come mai perché era una cosa che sorprese anche i miei musicisti quando glielo dissi proprio fu un po' un fulmine c'è il sereno poi dentro ci sono anche i motivi per cui invece non l'ho fatto da dove parte dicevi questa cosa ma parte proprio dal fatto che credo che in un racconto così ampio come mi hanno messo a disposizione ci sta tutto quello che ne ha fatto parte insomma o perlomeno quello che ne ha fatto parte degno di note degno di essere raccontato quindi anche gli scivoloni compresi tu stai mai pensato di smettere? no ho avuto paura che finisse a un certo punto in Francia mi ricordo vivevo lì è stata ci sono stati dei momenti abbastanza tosti insomma c'è stato un periodo in cui io in tanti anni in Italia ho fatto tre film per fortuna che lavoravo in Francia un po' mi ero chiamato fuori causa io cioè sicuramente poi uno quando vado a analizzare però lì mi ricordo mi svegliavo la notte avevo un'angoscia bestiale mi dicevo ma quindi quella cosa che era successa che avevo voluto per la quale sicuramente avevo lavorato e che poi era successa perché poi le cose devono anche succedere non basta volerle non succederà mai più questa era una roba ma mi svegliavo proprio angosciatissimo e quindi ho avuto paura ed è stato poi utile è stato ricominciare anche a dare un ritmo diverso qua in Italia ha preso un certo tempo perché poi sono cose ecco adesso quindi quella per me è un'esperienza indimenticabile insomma e guarda la cosa comunque una cosa volevo dire rispetto alla cosa che dicevi prima di Luciano chi conosce Luciano lo sa cioè Luciano è sempre stato così cioè a tu per tu quelle cose ma che poi vengono fuori dalle canzoni non 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 nasconde le cose che non vanno come vorrebbe o non sono andate come vorrebbe ed è vero quello che dici adesso poi nella cultura anglosassone c'è tutta una letteratura sul fallimento convivere col fallimento quanto è importante con i momenti difficili eccetera tutto diventa anche un po' uno slogan però è vero che in quelle culture è molto più connaturato da noi si tende sempre a dire tutto bene come va tutto bene tutto bene invece Luciano non ti dice tutto bene e questa è una cosa che mi ha sempre colpito che ho trovato anche molto istruttiva insomma e credo che questa serie rispecchi molto veramente di come è fatto lui anche quando si diceva il cazzeggio cioè è vero che magari in altri contesti è più difficile che possa uscire ma cioè è così cioè questa cosa racchiude molto secondo me questa cosa ed è quella lì è vero che non è di tutti e non solo cioè secondo me c'è anche un modo di questo modo di raccontarsi nel bene e nel male fa molto il paio secondo me con quella complessità di racconto no perché tu puoi essere vivere in una città di provincia ed essere provinciale puoi vivere in una piccola città e invece essere cittadino del mondo questa cosa qua secondo me fa la vera differenza e la statura anche di un artista insomma oltre che umanamente dico anche artisticamente adesso diciamo ho visto la riapertura dei teatri giusto al 100% ste corretto e ho visto Luciano anche che ha annunciato 2022 sono solo un po' deluso perché mi aspettavo una tappa a Brighton dove sono io ma mi sa che che non magari chiedo a Claudio se la giuggete magari che piccolino dobbiamo fare abbiamo Londra prenderai i mezzi a Londra potrai pure venire no cioè posso arrivare posso prendere il trenino e arrivare lì però me l'aspettavo qua sul lungomare vabbè niente ok insomma per la prossima volta però ecco è una gran cosa questa insomma immagino che i teatri al 100% e poter fare gli eventi insomma sarà sarà una figata pazzesca quando uno rincomincia l'unica cosa che vi dico è che io ho fatto un evento nel mio piccolo insomma ci arrivo 600 persone al salone del libro di Torino e la cosa che mi ha colpito è che tutti avevano la mascherina e io parlavo e non vedevo nessuna reazione quindi una cosa stranissima di dire parli a un pubblico che sembra squeak game non lo so ecco quindi questa è l'unica cosa che non so come sarà ecco non so come la vivrete voi e poi magari sarà diverso insomma con le mascherine non so quando lo farete però questa è l'unica cosa non so se hai già avuto questo feedback a teatro io avevo fatto anche a maggio scorso non era piena tenitura ma avevo rifatto l'inizio sia a Ponte d'Era che a Firenze con il monologo dell'Orlando Furioso e siccome guardo il pubblico anche se ho le luci in faccia vedevo appunto le mascherine probabilmente adesso è così anche se è piena tenitura chiaramente ci sono le mascherine Green Pass eccetera Luciano quando farà il concerto che sarà con la bella stagione chissà magari speriamo che tutto ciò sarà già magari più poi sarà l'aperto insomma siamo ancora ovviamente nelle mani chiaro del fatto o del del progetto divino eventuale il resto è il fatto che dobbiamo capire anche noi insomma il campo volo comunque prevede la presenza di centomila persone quindi prima che diano il permesso che centomila persone possano frequentarsi stare vicine così dobbiamo aspettare veramente almeno che passi a nuttata cioè questo inverno e capire veramente come siamo conciati Liga ma com'è fare un concerto con centomila persone cioè dimmela io non farò mai un concerto con centomila persone che vai sul palco c'hai centomila persone e poi scendi e dici vabbè adesso vado a letto cioè come fai a mettere insieme queste due cose mi sfuggi ecco non si mettono insieme per quello che tutti i miei squilibri sono così evidenti no no la realtà parlo per me ovviamente è che comunque adesso vabbè centomila sono un caso ma anche duemila e se fai anche mille anche settecento se fai un concerto in cui al centro c'è perché si è fatto così insomma l'energia e l'emozione comunque quella cosa ti dà dipendenza cioè comunque il giorno dopo le luci sono troppo spente rispetto a quello che hai vissuto in quella sera lì e quindi io che sono tossico di concerti vengo da due anni di merda anche per questo ovviamente nel senso che come tutti ho vissuto problemi anche più seri rispetto a questo discorso però resta il fatto che insomma intanto grazie a questo stop ho potuto almeno rivedere quelli che ho fatto cioè ecco è andata così è stato il primo momento nella mia vita perlomeno nella mia vita artistica in cui mi sono fermato mi sono dovuto fermare causa covid e io che ho fatto sempre tanto andando a rotta di collo a testa bassa non ho mai guardato cosa stavo facendo né che cosa avevo fatto con l'incoscienza di cui ti parlavo e andare a rivedere insomma gli spezzoni di concerti che sono nella serie tv e ricordarmi insomma quello che sono stati e ovviamente mi muove un sentimento in questo momento di nostalgia fortissimo però ho anche la speranza insomma che presto queste cose possano riprendersi e con la stessa intensità Stè Luciano grazie mille è stato bellissimo chiacchiare con voi stare qua sette ore ma ci fermiamo qui è andata così è assolutamente serie da vedere e spero di vedervi di persona presto o a un concerto arrivo a Londra insomma arrivo a Londra a vedere Luciano e Stefano ci vediamo in giro la prima occasione viene anche Stefano quel giorno lì dai segno tu nel calendario molla tutto vieni a Londra anche a te va bene va bene ci vediamo a Londra se vieni ti faccio cantare ciao ah no a Londra non posso ok